Noi eh, mi sai, siamo pronti molto commentanti. Allora avete prezzato, facciamo, visto che stanno facendo un applauso, vi chiedo una grande a tutta la direzione delle acacce, a tutti coloro che stanno lavorando, tutti quanti. Allora amici, buona giornata in nostra compagnia, apriamo subito le grazie così, naturalmente vi aspettiamo in pista, con la pista armonica del nostro Luca e il suo Despacito. Buona giornata a tutti e buon divertimento. Bye! Ciao amici, benvenuti a tutti! Oggi per voi, gloria per noi, dico, sono buoni! Grazie amici! Despacito Oggi per voi, gloria per noi, dico, sono buoni! Oggi per voi, gloria per noi, dico, sono buoni! Oggi per voi, gloria per noi, dico, si lo si spaviti di consistency, alle cose per noi, dico,ピ! Grazie amici, 들mazza i due te. Come va, schabbiamo! Grazie amici! Despacito 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 Despacito